Buongiorno, sono Ennio Zanonetti, titolare dell'Uva Lara. Oggi voglio presentarvi il manzo all'olio, il piatto tipico della Franciacorta. Viene fatto con sedano, carote, cipolla, un po' di prezzemolo, noi usiamo magari la parte più grossa, non le foglie, poi viene messo un po' di acciuga e capperi, sale e pepe quanto basta. Viene cotto quattro ore, si fa evaporare tutta l'acqua e poi viene fatto a fette. Prendiamo il nostro manzo, mettiamo in pettola. Viene scaldato ulteriormente. Aggiungiamo un po' di brodo vegetale. Si emulsiona il tutto. Un po' di prezzemolo lo aggiungiamo che dà anche colore all'altro piatto, oltre che un po' di profumo. Qui adesso facciamo uno specchio di salsa, dove andremo a coprire tutto il cerchio, così. Poi adagiamo il nostro manzo, in questo senso. Ecco qua. Diamo ulteriormente un po' di salsa sulla carne, così. Ecco qua. Abbiamo già preparato delle scaglie. Poi prendiamo una fogliolina di prezzemolo. Ecco qua. Il piatto è pronto. Buon appetito dall'Osteria Uvarara. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.